Bella a tutti ragazzi, sono Alex1990, benvenuti in questo mio prossimo video Siamo su Harry Potter Hogwarts Mystery, ma prima di iniziare voglio dedicare un saluto a David Ciao David! Bene, ora iniziamo il video su Harry Potter Hogwarts Mystery e andiamo a vedere cosa andremo a fare oggi Bene ragazzi, eccoci su Harry Potter Hogwarts Mystery Praticamente dopo aver imparato la lezione e ingorgio, oggi andremo praticamente a parlare con Rowan Perché ci dice che ha un piano per trovare la penna nera e finalmente Ben Cooper Dato che siamo vari episodi che non riusciamo a trovare il nostro amico Ben Quindi ragazzi andiamo nella sala comune di Fondoro, Torre Ovest e andiamo a parlare con Rowan Perfetto, alziamo un po' il volume perché non sento niente Ciao, che non si accetta così? Determine se si accettiamo Ok, mangia con un panino, ok Ok ragazzi, sarà comune di Fondoro, parliamo con Roma, vediamo un po' che cosa ha da dirci Allora, prima come sempre andiamo a vedere un pochettino che cosa ci dicono i nostri compagni di classe Che sono sempre curiosi di sapere cosa ci hanno da dire Angelica, ho sentito dire che ci hai fatto vincere 10 punti della casa della lezione di trasfigurazione Alex Ben fatto, grazie a voi ragazzi che mi sostenete sempre E grazie a voi riesco a vincere Andare avanti appunto nel gioco Cazzate Andiamo avanti Grazie a dirci questo qua prima di Rowan Secondo anno Merula sta comportando qualcosa con un gruppo di potenti allievi di serpe verde Ti conviene fare attenzione Grazie amico mio Terrò Terrò questo Questo consiglio Molto Yeah Andiamo a parlare con Rowan Quindi come abbiamo detto E Rowan ci dice Hey Alex, hai sentito nulla di ben? No, assolutamente no No, ma se riesci a trovare un modo di faccia entrare nella sala comune di serpe verde Quella penna nera dovrebbe aiutarci a trovarlo Non riuscivo proprio a farmi venire in mente un piano Finché non ho ricordato gli incantesimi restringente e di ingozzamento Ok E la grande partita di Quidditch Grifondoro contro serpe verde Non ti sto seguendo Tutti andranno alla partita Quindi ragazzi Tutti andranno alla partita Durante la partita di Quidditch cosa succederà? Tutti tranne noi Quindi mentre tutti quanti sono alla partita di Quidditch Noi non ci andremo Perché andremo appunto Dovremmo entrare appunto nella casata di serpe verde Quindi adesso ci spiega Quando gli allevri avranno lasciato la sala comune di serpe verde Tutti restringerai Sgattoglierai dentro Dentro Mentre la porta aperta E tornerei alle dimensioni normali Quindi avete capito ragazzi Mentre tutti quanti sono alla partita di Quidditch Noi ci restringiamo Entriamo attraverso la porta E poi Torniamo grandi Torniamo grandi E siamo finalmente dentro appunto Dentro appunto alla santa di serpe verde La sala comune sarà vuota Potrai prendere la penna nera E andate senza che nessuno se ne accorga Quindi Perfetto ragazzi Il piano sembra che è così Va tutto liscio come l'olio Poi è da vedere appunto Com'andare È eccezionale vero Sì eccellente È pericoloso È una follia Potrebbe essere eccellente Vediamo ragazzi Io dico sì è eccellente Beh comunque Se veramente tutti sono alla partita di Quidditch E quindi Non c'è nessuno Sì veramente Questa cosa andrà liscia come l'olio Se non andrà così Lo staremo a vedere Comunque Sì eccellente È eccellente Rowan Sapevo che ti saresti inventato qualcosa Farò una ricerca sugli ultimi Sugli incantesimi Per assicurarmi che non ci sia nulla di pericoloso E sarò presente per tutto il tempo Per controllare Mi fido di te Rowan Imparerò quegli incantesimi Più velocemente possibile Quindi ragazzi Andiamo C'è ancora una cosa Alex Il prefetto di Sapeverde È intelligente Saprà che Giffondolo Potrebbe sabotare L'ingresso della sala comune di Sapeverde Ma di tutti sono distratti Quindi ragazzi Lo vedete che c'è qualcosa che non va Se torna indietro Mentre stiamo Sgattololando dentro Saremo in grossi guai Mi occupo di ruota perfetto Incontriamoci più tardi Per definire il nostro piano Ok ragazzi Quindi Sembra che siamo pronti Sembra che siamo pronti Vediamo se possiamo fare subito 48 Ah mannaggia Vabbè ci tocca aspettare 2 ore e 59 Perfetto Aspettiamo E' una città Ricordate di imparare Reduccio Quando ce ne insegneranno A incantesimi Ah no 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 Ok guardiamo una cosa Che sono curioso Ah no Reduccio Ok 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 C'è di imparare Reduccio Perfetto ragazzi E allora Andiamo alla lezione Di Reduccio Allora incantesimi Lezione di incantesimi Perfetto Ok Perfetto ragazzi Allora ragazzi Praticamente Vi ho Levato Il peso Di Di sbloccare Appunto Il cantesimo Reduccio E Appunto Come sappiamo Questo cantesimo Ci servirà Poi Per Rimpicciorirci Così Che Durante la partita Di 15 Riusciamo A rimpicciorirci E entrare Nella casa Di serpa verde Per rubare Appunto Questa penna Che ci serve Per trovare Ben Quindi Andiamo a imparare Prima Reduccio E poi Si vedrà Quindi Oggi andiamo a imparare Reduccio Andiamo nell'ora Scusate Mi sono Tappalata la telecamera Andiamo nell'ora Incantesimi E vediamo un po' Allora Vediamo che ci dicono I nostri compagni Secondo anno Non si è emozionato Per la partita Di grifondoro Contro Settra verde È abbastanza Rowan Il piano Sta prendendo forma Alex Ti manderò Un buffo Dopo che avrei A preso Gli incantesimi Necessari Ok Questa classe Non è più la stessa Senza l'energia Nervosa Di Ben Ok Mi scusi Professor Flitchwick Che cosa c'è Signor Sbrignid Ho delle domande Su un incantesimo Restringente Molto bene L'incantesimo Restringente Funziona sugli umani Si può controllare Fino a quanto Ci si restringe Come si fa A evitare Di venire Calpestati C'è la paura Di smurire Usare Usare l'incantesimo Restringente Per autore Fisici È complicato Pericoloso È incredibilmente Sciocco Non dissento Ti farò una domanda E ti suggerisco Caltamente Di dire la verità Se vuoi evitare Ulteriori punizioni Stai pensando Di infrangere Le regole Della scuola Ancora una volta Sbrignid Ti prego Di essere sincero Mi hai già mentito Una volta Bene ragazzi Come potete vedere Se dico Sì Dobbiamo essere A livello 10 Di quello Quindi non possiamo Devo dire Per forza No Non sto Archi Tentando niente Ho sole Molte domande Sul restringimento Voglio fidarmi Di te Per il tuo bene Spero che questa fiducia Non sia Un mal risposta A tuo posto Prego Benvenuti allievi Oggi apprenderemo Reduccio L'incantesimo Restringente Permette di ridurre La dimensione fisica Appattenta Del proprio Versaglio E non dovrebbe Mai E poi mai Essere usato Su se stessi Iniziamo Ok ragazzi Quindi abbiamo visto Allora Abbiamo 3 ore di tempo 5 stelle Perfetto L'incantesimo Restringente Sempre utilissimo Quando si fanno I bagagli Permette di elencarvi Alcuni degli Altri usi Delicantesimo Restringente Ok Studiamo Flick Interrogati Guarda Ok Prima stella L'abbiamo Presa Ma si Ho una domanda Vediamo se Conoscete la risposta Reduccio È un incantesimo Che rimpicciolisce Essere viventi Oggetti Abbiamo 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 Azzeccato In pieno E andiamo Avanti Ok Abbiamo Azzeccato In pieno Andiamo Avanti Perfetto E adesso Adesso Che succederà Ripassa Gli effetti Di Reduccio Riuscire All'inplicere Un oggetto Non è affatto Semplicemente Venite a dare Un'occhiata Blablabla Non ho dovuto leggere Perché Mi sa Basta La rimontare Il telefono Esamina Ascolta Ok Seconda stella Perfetto Concentratevi Su questo punto E cercate di memorizzarlo Magnifico Ok Quindi Ripassa Gli effetti Di Reduccio Perfetto Siete all'incantesimo Reduccio La formula Per l'incantesimo Restringente Reduccio Ora potete Provare Proviamo Ascolta Aspettiamo Ok Dopo esserci Ricaricati Praticamente Continuiamo A fare Spettacoliamo Spettacoliamo Ci prendiamo Questo Ok Concentratevi Sulla pronuncia Gli incantesimi Non lasciano Margine Di errore Concentratevi Ok Ragazzi Perfetto Guardate Proprio Al centro Del cerchio Capate Vedere Yes Ok Adesso E' Esercita Nella posizione Reduccio Che ci chiediate o no La postura fondamentale Conoscete Incantesimi Come Reduccio Osservate Finiammi La verità Ascolta Ok Anche la quarta stella Ragazzi Ci manca Una stella Solo E ce l'abbiamo Fatta Abbiamo imparato Anche il Reduccio Così finalmente Possiamo provare Appunto A entrare Anche da di Saperverder Restringendoci Chi pensa di poter Ripetere Quello che vi ho mostrato Alespini Mi prego Vieni qui vicino a me Dimostriamo Lì appunto Quello che ci ha Appena fatto vedere Ecco qua Magnivius Ok Ok Cadabra Ok E provate a lanciare Un incantesimo Siete pronti Vuoi vedere In tutti i pegnati Lanciare L'incantesimo Restringente Perfetto Quindi ascolta Ok ragazzi Ci manca Veramente poco Per una stella Però dobbiamo Ricaricarci Attendiamo Bene Ragazzi Continuiamo Sperando di Vendici La quinta Stella Dai Che questa volta Ce la dai Ci manca Solo uno Leggi 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 E Daccela Quinta Stella Perfetto Quindi Ok ragazzi Credo di essere pronto Ora di lanciare Reduccio Lanciare Reduccio Da migliorare Perché Scusa L'ho fatto bene Dov'è il problema Comunque Ok Reduccio Abbiamo imparato Raccogli Ben fatto Sbri Mi ricorda Solo perché Conosci un Incantesimo Non significa Che tu debba Usarlo Al di fuori Dell'aula Occhio Ragazzi Soprattutto Quando Professore Lo ha Espressamente Vietato Non voglio Derudere Il free Trick Di nuovo Ma Questo È l'unico Modo Che conosco Per aiutare A trovare Ben Farò Del mio Meglio Per Non Fammi Beccare Quindi Ragazzi Abbiamo imparato Reduccio Come potete Ben vedere Adesso Andiamo a parlare Con Rowan Appunto Del piano Per Trovare La penna Nera Ci vediamo Nel prossimo video Per questo video È tutto Se vi è piaciuto Cliccate un like Registratevi al canale Continuate a seguirmi Per continuare a vedere I video Di Harry Potter O Gore Mystery Ciao a tutti ragazzi Ciao